Buonasera, sono Mirti De Gavelli del Museo Civico del Risorgimento e dopo qualche tempo, un'estate di altre attività, abbiamo ricominciato da un paio di settimane le nostre dirette Facebook, per il momento sono una alla settimana, ma siamo convinti che possano interessare come hanno avuto un bel riscontro in primavera. Quindi le nostre dirette sono dedicate a temi vari. Questa sera io vorrei fare una chiacchierettina, due chiacchiere appunto su Dante e la Grande Guerra. Ovviamente, come ben tutti sanno, quest'anno è stato il settecentesimo anniversario della morte del poeta e se ne è parlato tanto, si sono fatte tante mostre, tante attività, tante conferenze, visite eccetera. Si è fatto un po' di tutto, come giustamente merita questo grandissimo personaggio. Ma anche per noi del Risorgimento, Dante ha una importante valenza, è un personaggio fondamentale. Perché? Ovviamente morto nel 1321, non fu dimenticato, fu sempre un poeta importante, conosciuto, conosciuto però soprattutto dagli studiosi di letteratura, dai letterati e come sempre succedeva in tempi lontani, anche con una serie di cose, di parti della sua poetica note al popolo. Però in epoca post-rivoluzionaria, post-rivoluzione francese, la sua figura comincia ad avere un nuovo successo, una nuova vita. Cosa succede? Succede che personaggi del calibro di Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, Vincenzo Monti, Giacomo Leopardi, quindi stiamo parlando dei grandissimi letterati, poeti della nostra modernità, cominciano ad interessarsi a lui non solo per l'aspetto letterario e poetico del quale non vi parlo perché io non sono una letterata, non mi intendo di poesia più di tanto, ma si cominciarono ad interessarsi alla sua poetica, agli suoi scritti, un po' in generale, non solo alla Divina Commedia, come fonte di conoscenza della storia italiana, precedente all'epoca rivoluzionaria e come possibile nucleo fondante dell'italianità che si andava promuovendo con quello che si stava rivelando il nostro risorgimento. Quindi Dante interpretato in un modo diverso da quello che era stato in passato, un'interpretazione che a volte era anche un filino forzata forse, cioè si leggevano, come sempre succede, si leggevano certi passi, certi brani, certi versi con un occhio moderno, quindi facendogli dire forse a volte anche cose che erano un po' difficili da anticipare di qualche secolo. A un certo punto poi anche un personaggio come Giuseppe Mazzini cominciò ad interessarsi di Dante, se ne interessò da giovanissimo, aveva poco più di vent'anni, Mazzini è conosciuto per essere appunto il patriota, il padre del repubblicanesimo eccetera eccetera, ma tra i suoi scritti, tra i suoi abbondantissimi scritti, ci sono anche tantissime opere di critica musicale, critica letteraria, critica d'arte, cioè era un personaggio a tutto tondo, ma avremo modo di parlarne perché il 2022 sarà il 150esimo anniversario della morte di Mazzini e quindi noi come Museo del Risorgimento sicuramente ce ne interesseremo ampiamente. In questa sede volevo solo ricordare che appunto il giovane Mazzini, ancora semplicemente ventenne, scrisse un testo che si intitolava Dell'amor patrio di Dante, poche pagine, comunque pagine interessanti nelle quali per esempio forzando un po' le parole del poeta, Mazzini affermava, egli mirò congiungere in un sol corpo l'Italia piena di divisioni e sottrarla al servaggio che allora la minacciava più che mai e concludeva queste parole di critica letteraria con un'esultazione, o italiani non obbliate già mai che il primo passo a produrre uomini grandi sta nell'onorare i già spenti. Perché sono partita da risorgimento visto che dobbiamo parlare di grande guerra? Perché l'Ottocento oltre a queste critiche, a questa riscoperta del Dante politico e uomo politico e padre civile dell'Italia che si andava costruendo viene ampiamente utilizzato come soggetto anche il campo artistico. Per esempio anche noi come istituzione a Bologna abbiamo tracce di questo interesse. Nella grande Salone del Risorgimento che è il primo sindaco di Bologna unitaria Luigi Pizzardi si fece costruire nel proprio palazzo, palazzo che oggi è Legnani Pizzardi, palazzo dei Tribunali. Ebbene in questo salone accanto ai contemporanei Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, Cavour e Minghetti, Pizzardi fece realizzare una serie di quadri dedicati ai grandi italiani, quelli che comunque avevano dato lustro all'Italia in precedenza e che dovevano essere considerati anch'essi padri della patria. Tra questi Michelangelo Bonarroti, Cristoforo Colombo, Galileo Galilei, c'è anche Dante Alighieri. Facciamo un altro salto, arriviamo al 1889, quindi a fine secolo e un'altra gloria bolognese, Giosuè Carducci, si fa promotore insieme a un ampio, amplissimo nucleo di italiani illustri, deputati, uomini di cultura e irredenti, cioè persone provenienti dalle terre irredente, Trento Trieste e quelle che poi saranno appunto in ballo durante la Prima Guerra Mondiale, si fa promotore di questo, questo è una fotocopia ovviamente, di questo documento datato luglio 1889 da Roma in cui viene costituita una società, che ancora oggi esiste, che prenderà il nome proprio di Dante Alighieri, la società Dante Alighieri, che divenne poi un ente morale, riconosciuto dallo Stato con un regio decreto nel 1893 e ebbe un ruolo importantissimo durante la Prima Guerra Mondiale. La società Dante Alighieri aveva come compito principale, inserito nello statuto, quello di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana fuori dal regno, ma durante la, cosa che faceva l'importanza del legame con gli irredenti è proprio per questo motivo perché la cultura italiana veniva promossa anche nei territori per esempio dell'impero austro-ungarico. Non a caso è del 1889 mi sembra sempre, l'inaugurazione del 1896, scusate, l'inaugurazione a Trento di un grandissimo monumento dedicato proprio a Dante Alighieri che venne poi riprodotto in cartoline, in articoli di giornale, un po' dappertutto, un monumento che andava a, in terra austro-ungarica sia ben chiaro, incontro alle spinte di italianità di chi viveva in quella zona, quindi le richieste di poter celebrare e far conoscere le glorie legate alla propria lingua madre e quindi Trento si trovò ad avere questo grande monumento a fine secolo autorizzato dalle autorità austro-ungariche che divenne però un po' il fulcro del tutto l'irredentismo trentino. Passiamo quindi alla prima guerra mondiale perché Dante ha un legame forte con la prima guerra mondiale. Chiaramente non è lui a legarsi a questo tema ma tutta questa riscoperta di questo personaggio così importante e la necessità di propaganda, di fare propaganda pro conflitto per la guerra, per convincere la popolazione italiana che quello che si andava a fare era importante ma era anche giusto. Ecco in quest'ottica di propaganda vennero arruolate tutte le glorie patrie possibili e immaginabili. Quindi per esempio nelle raccolte di cartoline che abbiamo al museo del risorgimento di epoca grande guerra troviamo che vengono un po' scomodati tutti i personaggi in qualche modo importanti del passato delle varie zone della penisola e accanto a questi anche appunto il nostro il nostro poeta. Perché è così? E quindi tutti i discorsi che avevano fatto Alfieri, Ugo Foscolo, Leopardi, Mazzini eccetera vengono recuperati e nelle cartoline che vengono prodotte per la guerra e che avranno una importanza fondamentale il personaggio di Dante sarà molto molto gettonato molto utilizzato. Io ve ne faccio vedere qualcuna così in bianco e nero perché sono stampate dal computer ma poi nella nella chat della diretta ci saranno le indicazioni per andarli a vedere a colori con tutte le loro caratteristiche migliori sui nostri siti. Per esempio vedete questa bella immagine si vede questo Dante con aria molto intensa con la testa appoggiata praticamente in Austria che riguarda la penisola dall'alto delle montagne e non a caso le città che vengono indicate sono Trento, Gorizia, Trieste, Fiume, Pola, Zara, Spalato. Cioè tutto quello che una fazione soprattutto di tipo irredentista andava rivendicando in occasione della prima guerra mondiale e cioè Trento e Trieste e l'area adriatica che era considerata per i trascorsi veneziani eccetera appartenente in qualche modo all'Italia, un'Italia ampia. Qualche critico ha scritto che tutto quello che tutte quelle zone di cui Dante aveva parlato in qualche sua opera venivano in qualche modo mutuate e diceva ah ne ha parlato Dante quindi sono le nostre, sono Italia, Pola o anche altre altre zone. Questa è un'altra immagine sempre con l'Adriatico. Vedete come l'Adriatico fa da spartiacque partiacque veramente tra quello che era in quel momento l'Italia e quello che doveva andare a diventare. Ci sono però anche altre immagini nelle cartoline. Io oggi non vi parlerò dei quadri perché dovremmo stare qui veramente tanto tempo ma vi parlo di una serie che mi è piaciuta molto e mi ha molto interessato e che troverete citata anche appunto nelle cose che vi facciamo vedere che è una serie di 12 cartoline di cui vi faccio vedere solo la prima. Vedete in questo caso non c'è Dante rappresentato come uomo ma i versi che sono alla base della cartolina sono la selva oscura della Tripidice Alleanza. Quindi c'è questo mix tra i versi danteschi e le questioni in ballo durante il conflitto. Questa Italia turrita con la veste ampia e la stella in fronte si addentra nella selva oscura dove si distingue tra i mostri che la vogliono concupire un ritratto di Francesco Giuseppe dell'imperatore austriaco. È una serie di 12 cartoline e molte di queste sono molto interessanti perché rappresentano Dante o meglio il personaggio di Dante è rappresentato dall'Italia appunto che si addentra nella selva oscura ma il Virgilio che nella Divina Commedia guidò Dante assume le sembianze del padre della patria per eccellenza di Giuseppe Garibaldi. Quindi abbiamo l'Italia guidata accompagnata da Garibaldi che si addentrano nelle selve oscure tra le minacce austriache utilizzando versi presi qua e là dalla Divina Commedia e diventano una interessante serie di cartoline. Ci sono anche tantissime altre cose che vengono proposte in queste in queste occasioni, in questa occasione dell'appunto della grande guerra. Le cartoline come abbiamo detto in altre occasioni furono uno dei forse il sistema di comunicazione più utilizzato durante il primo conflitto mondiale, non solo in Italia, un po' in tutta Europa. Erano lo strumento che consentiva anche ai semi-analfabeti e a volte anche agli analfabeti di comunicare. Bastava scrivere poco o anche solo il proprio nome. Le cartoline potevano essere scritte con delle scritte o potevano essere illustrate. In questo caso noi parliamo non solo di cartoline illustrate perché si rivolgevano non solo alle persone meno alfabetizzate ma anche a chi poteva leggere qualche cosa di più. Vennero arruolati per realizzare questi bozzetti che poi in qualche caso divennero anche manifesti, opuscoli, tutto legato appunto al mondo della propaganda, quindi una grande, grandissima produzione, vennero arruolati anche i più importanti disegnatori dell'epoca. Questa operazione di arruolamento fu fatta, come abbiamo ricordato anche in altre occasioni, sia per le produzioni più importanti appunto i manifesti del prestito nazionale, quindi prodotti dallo Stato, ma anche per le cose più popolari come le cartoline e come le piccole produzioni. C'è un saggio dedicato appunto a queste raccolte di cartoline durante la prima guerra mondiale che ricorda come ci furono quasi, furono centinaia le piccolissime case di produzione che stamparono questo materiale un po' dappertutto e alcune centinaia anche i disegnatori che si prestarono a lavorare su questo materiale. Ne ricordiamo alcuni, Marcello Dudovic, Augusto Maiani, bolognese conosciuto anche come Nasica, Achille Mosanna, Attilio Mussino, Antonio Rubino, Plinio Codognato, Umberto Grubunelleschi, sono per chi si occupa un po' di cartellonistica, di pubblicità degli anni 20-30, i grandi disegnatori dell'epoca. Qualcuno era molto giovane, qualcuno era già affermato, ma tutti parteciparono e Dante venne appunto spesso utilizzato. Inoltre, suoi testi o critiche su suoi testi o estrapolazioni poi commentate e a volte anche in modo un po' fantasioso, ma prodotti in decine, centinaia di titoli, furono anche gli opuscoli che uscirono appunto utilizzando questo legame, Dante e la Grande Guerra, Dante e l'Italia, Dante e i diritti dell'Italia su certi territori, Dante come padre della nostra Italia perché fu colui che aveva nel convivio ancora, quindi in uno degli altri testi, non nella Divina Commedia, aveva predetto che il volgare, cioè l'italiano, avrebbe trionfato sul latino, mentre in altri testi spiegava come prima o poi l'italiano, il volgare avrebbe soffocato gli altri dialetti e avrebbe in qualche modo unificato la penisola in una lingua unica. E ancora, una cosa che sottolineava Mazzini appunto nei suoi scritti che citavo prima, Mazzini dice che nell'amor patrio possa accogliersi il denominatore comune di tutte le opere di Dante, appunto Mazzini appunto dimostra secondo la sua interpretazione, anche forzando un pochino il pensiero del poeta che appunto nell'amor patrio di cui si spendeva e si parlava in abbondanza durante la prima guerra mondiale, stava la colla, il collante per questo nuovo paese e l'eredità di questo poeta per tutti gli italiani. Quindi avviandomi alla fine di questa chiacchierata posso ricordare, vi faccio vedere una cartolina invece un po' scherzosa perché non c'erano solo le cose seriosissime ma c'erano anche quelle più satiriche, più scherzose. Due sole, una serie che è questa, vedete come appunto parlando di padri della patria e questi sono i padri della prima guerra mondiale, per la prima guerra mondiale ci sono tutti Garibaldi, Cavour, Mazzini, Giuseppe Verdi, i ministri principali, Giosuè Carducci e D'Annunzio, il generale Cadorna, Re Umberto, Vittorio Emanuele II, Vittorio Emanuele III ma in testa a tutti c'è Dante. Quindi un riconoscimento in questa cartolina che è intitolata i fattori del risorgimento italiano e il valore eroico del nostro esercito per la grande patria. Chiudo con la cartolina scherzosa che vi dicevo perché la trovo molto simpatica ed è questa. Ovviamente Facebook fa leggere al contrario quindi va bene un po' alla Leonardo e non alla Dante. Ma vediamo questo imponente Dante Alighieri vestito come appunto ci è tramandato nella storia e un piccolo alpino con un enorme fucile che sta bello impettito davanti a lui e si dicono Dante dice vorrei scrivere per voi italiane un nuovo canto del paradiso e il piccolo alpino risponde oh papà ci basterebbe che mandaste all'inferno tutti i disfattisti. E con questa simpatica cartolina io chiuderei questa conversazione vi invito a indagare un pochino su queste caratteristiche perché di Dante Alighieri che appunto fu non solo un grande scrittore ma anche uno dei padri dell'Italia moderna. Grazie a tutti e buona serata.